Un grande evento cinematografico. Lottiamo perché un giorno ogni bambina venuta al mondo possa avere le stesse occasioni che hanno i suoi fratelli. Noi non vogliamo violare la legge. Vogliamo fare la legge. Voto alle donne! Voto alle donne! Voto alle donne! Al secondo posto c'è Eva contro Eva, del 50. Terzo posto, Il padrino, del 1972. Scendendo dal podio, quindi al quarto posto, troviamo Metropolis, del 1927, e poi seguito da Casablanca, del 1942. Siete d'accordo con questa classifica? Voi invece che film drammatici consigliereste? fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto proprio qui se volete vedere altri video ciao a tutti